Questo video riguarda i migliori tre robotos a erba. Il vincitore della qualità è il Gardena Sileno Plus. Scoprite come la vita nel vostro giardino diventa ancora più confortevole con il Gardena Smart System. Irrigazione e cura del prato intelligenti, sempre e ovunque. Tutto semplicemente con un'app. Gardena Smart System è un sistema completo e collegato in rete per un giardino completamente automatico. Offre molto di più di semplici rasa erba e irrigazione tramite telecomando. Si tratta di una combinazione intelligente di tutti gli apparecchi smart di Gardena, tipico di Gardena. L'installazione, l'utilizzo e la programmazione di Gardena Smart System è un gioco da ragazzi, sia che siate in viaggio per lavoro o in vacanza. Controllate e comandate il vostro giardino comodamente a distanza, sempre e ovunque. Grazie alle tecnologie intelligente e ai costanti ampliamenti della smart app Gardena, sapete sempre cosa accade nel vostro giardino. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Greenworks Optima U15. Il nostro agile robot tagliaerba rasa il tuo prato con un'area fino a 1500 m2 e un'altezza di taglio regolabile da 20-60 mm, per un bellissimo giardino da godere. Grazie all'app Greenguide, puoi controllare comodamente il tuo laborioso robotosa erba da qualsiasi luogo, assicurandoti di avere un prato perfetto a casa ogni giorno. Con l'aiuto della sua potente batteria agli ioni di litio, il nostro piccolo Optima U può superare pendenze fino al 35% in modo che il tuo prato sia uniformemente curato e tagliato. Con un livello di rumore di 50 dB, il nostro rasaerba robot è così silenzioso che il tuo prato può essere tagliato sempre, sia di domenica che di notte. Il nostro rasaerba robot rileva automaticamente se è il momento di riportare il tuo prato in grande forma ed è la scelta giusta come aiuto per il giardinaggio intelligente. Il vincitore del premio è l'MC Culloch Rob. Il robot rasaerba Rob S600 rende la falciatura del prato estremamente confortevole. È consigliato per estensioni fino a 600 metri quadrati. Pendenze fino al 35% non rappresentano un problema per Rob S600, in grado di falciare in modo pulito e preciso un'area di 45 metri quadrati in un'ora. Grazie al sistema di taglio intelligente il robot rasaerba adatta la sua attività di falciatura autonomamente alla crescita del prato, in modo che non si danneggi. Installazione, programmazione e impiego in un batter d'occhio. Un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni passo passo. Mediante lo smartphone è possibile controllare e comandare comodamente il proprio Rob utilizzando l'Up Rob. La stazione di carica può essere installata in modo flessibile ai bordi del prato. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.